Questo programma è offerto da Differenziamola, promossa dal Comune di Reggio Calabria, dal CONAI e dalla VR. E allora che sintomi ha? Ma quali sintomi, dottore? Io ho crisi di personalità, di identità, non so più chi sono. Sì, d'accordo di con... Perché, ma perché, perché fa male, male d'amore... Ah, ma sei uno spettacolo della natura. Non si preoccupi, sta arrivando la sicurezza. Questa battuta, la banda che suona e che canta per un mondo diverso, libertà e tempo perso. E nessuno che rompe i coglioni. Nessuno che dice se sbagli e sei fuori. Sei fuori, sei fuori, sei fuori, sei fuori. Certo che lo sai, prendi tutto e te ne vai, per vedere se è vero, che poi ti vengo a cercare... Bene, oggi siamo alla fiera campionaria di Reggio Calabria. Andremo a vedere tutte le cose belle che questo evento ci... Scusi un attimo. Scusi, ma ci siamo già persi i putortini. Che succede? E perché non è un po' da stare, dottore Pecora? Qual è il problema? Non sono dottore Pecora io. Senti, dovevo fare solo le invenzioni, l'allarme, gli saccani, i micro-spiri. Vivo sempre sopra a Reggio Calabria. Io sognò uno appartenente a lo staff, quindi la macchina da cacciare. Io sognò un pubblico ufficiale, perché praticamente è ufficiale che sognò il tuo pubblico oggi. Usatemi lo fuori. No, scusa, qua non può stare. E per chi non può stare la macchina, non mi piace. Questi sono tutti autorizzati, quindi... E a me che sono razzate, non mi interessa niente. E poco morissero l'auto, che state facendo, dottore? Scusate, non ci scodate. Allora, signor Puglottet. Ma io chiamare che cosa, ok? Ma io posso chiamare... Ma mia, potete chiamare i culi, ti mando a f*** io parlando con gente. C'è una certa età, non è che mi potete rispondere. C'è da dirlo di Paolo Pecora. Ma non è Paolo Pecora. Ma se faccio le invenzioni. Non sognò Paolo Pecora. Senti, da tal proposito, so come c'è praticamente... Cacciatemi la mano da un colpo. So come c'è praticamente una signora che mi interessa. E probabilmente avrà l'amante. Ci voglio toccare una macrospia all'interno di una cosa, la camera da letto. Sì, un tipo sospetto, cacciate questa macchina. Un tipo sospetto, avrà raggiunto. Spostate la macchina, via. Spostate la macchina, cacciate la macchina. Sto parlando qua tu ho avuto il rispetto, caccioli. Va bene, andiamo a vedere cosa c'è nella fiera. Signor Putortì, ma per favore, ma venga qua. Allora, siamo alla fiera. Ancora non siamo nemmeno riusciti a entrare perché il signor Putortì oggi è veramente incontenibile. Ora si è appropriato della postazione mobile di Radio Ecosud perché dice deve fare degli appena... Sulle mani, sulle mani. Chi non batte le mani non tromba domani. Scusa, ma che cos'è? Scusa, Alberto Mazzagova di Radio Ecosud. Scusa, ma mi ha invaso la postazione mobile. Non so cosa fare. Capisco che c'è una certa età che vorrebbe magari provare anche un attimo di evasione e quindi provare a fare il DJ come noi. Come stiamo facendo il DJ? Praticamente, capo, il dottor Tomarchio ci voleva rire perché praticamente c'è il signor Pequera che ha delle invenzioni, non mi faccia parcheggiare ma che non ha ritmo praticamente. Perché lei non è autorizzato. Ma la peggio chi è? La peggio, la peggio. Ma lei non è autorizzato. Razzato? Io sogno praticamente, guardate che io parlando con gentilezza, ancora hai una taratura veramente tipo che ha gestato a Ecosud e l'Anna Bella. Non possiamo invadere Ecosud, dobbiamo andare a fare il reportaggio della fiera. Volevo ringraziare veramente il radioascoltatore per l'opportunità. Chi non batte le mani non tromba domani. Forza praticamente. Lei è veramente uno speaker fantastico, grazie Alberto Mazzacolo, andiamocene per favore, andiamoci. Arrivederci, signor Putorti, buona giornata. Ciao dottore. Ciao Alberto, ma che figure, ma che figure mi ci fa fare a noi di videoclapia? Dove sta andando? Che cosa fa? Andiamo dentro. Signor Putorti! Bene, siamo con... Caterina. Con Caterina che adesso ci dirà insomma che cosa ti è piaciuto più di questa fiera. Ma è interessante, tutto interessante, sempre... Ci sono quasi sempre cose nuove. C'è un'attività, due aspetti per me che vado a iniziare. Praticamente che questo parcheggio qua che non lo fanno, mentre la macchina aveva 8 ore, pecora, che veramente per ben due volte, ma risa mia che mi andai a dire perché... Perché? Perché lasci stare. C'era praticamente di un bel colore... Vabbè, non capisco, no, vabbè, non ci stai... Grazie Caterina. Grazie. Complimenti. Grazie. Rienerci, grazie. La città che ora ne sta bloccata. Ora ne sta bloccata. Un massaggiatore? C'è un massaggiatore? Giocchiamolo. Buon pomeriggio e complimenti. Sentite, siete napoletano voi? E allora provo a parlare napoletano praticamente. E qua io... E che posso mangiare parlando con gentilezza? Quello che possa è babbà, la sfogliatella, la ciambella... Babbà, sfogliatella, ciambella... Vabbè, allora prendo tutto praticamente, dai. Prendo tutto per fine... Sì, un vassoio intero... Dio al chile almeno. Dottore! Ma lei ha il diabete, non può prendere niente. Lei, voi. Signor Putorti, avete il diabete, non può essere che... Voi non potete mangiare queste cose. Avete ragione, dottore, hai il diabete, niente. Purtroppo mi dovete scusare. Andiamo, andiamo, andiamo. Sentite, torno dopo, appena sento passato il nusso. Posso dire, il diabete, quindi non posso praticamente... No. Andiamo, 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 andiamo. Siamo, cioè suono, suono a Bologna, non ho il microfono, però lo utilizzerò moralmente. Allora, vorrei fare una domanda, questo per farvi vedere che... la differenza tra le donne bolognese, quindi emiliane, e le donne calabrese, o comunque meridionali. Sì, diciamo, le donne sono tutte belle, sia quelle di Bologna che anche le meridionali. Il problema è che secondo me le meridionali, ma non secondo me, con me sono molto gelose e molto possessive, che non è buono. È risaputo che tu sia un abile, diciamo... Vabbè, ok, facciamo finta che però non è che tutte lo sanno. Il problema è che le Bolognesi, che lo sanno, quando si fidanzano con me, cosa fanno? Fanno le fenomene. E non va bene lo stesso. Ma va bene. Perché bisogna prendermi così, come sono. Ah, quindi ti prendono loro? No, esatto. Ma hai capito? C'è loro che prendono per cercare di cambiare sai che cosa. Sai che le donne diventano tutte infermiere. Ma prima ti danno il lato della brutta nesco. E dopo un po' diventano infermiere, ti ha detto perché ti curano, ti fanno delle cose, però dice scusami. Perché a noi rimani sempre troia con merito al mistero. Perché è quello che l'uomo vuole, anche dopo un po' di te. Ecco, c'è questo cambiamento. Grazie per questa... Saluta Sandrino, che immagino sia un suo collega. Sandrino? Sì. Ciao Sandrino, un bacio. Tanto loro. Io direi che dopo questa intervista sia doveroso concederci un intervallo. Quindi facciamo esibire il corpo di ballo sotto i portici di Bologna. Bologna. Prendi appunti perché dobbiamo cambiare l'anamnesi del paziente Gro, perché insomma la depressione sta crescendo sempre più. Ma quando? Appunto, sì, appunto. Prendi appunti. Va bene, allora, intanto che abbiamo? E intanto c'è ancora qui con noi il nostro signor Marco. Il signor Marco? Sì. Ma no. Quello del barzellettiere? Sì. Sì. Come sta? Come sta? Come sta? Va meglio? Si trova meglio? Si trova meglio? Si trova meglio. Perché? No, niente così. Ah così? Vabbè, non ci faccio niente. Vado a incrementare il dosaggio. Sì. Sapete perché i bambini sono curiosi? Perché vogliono sapere. Sapete perché vogliono sapere? Perché sono curiosi. Un bambino di sei anni va dalla mammina e gli dice Mammina, mammina, è vero che mi ha portato la cigogna? Sto mamma ti dice bello come cori, mi sa razza, non mi ricordo però. L'uccello era grosso. Vada. Vada. È il nostro paziente zero, oggi chi impersonerà? Oggi va a scorrosti. Eh, sì. ... No, la cosa del paziente zero, mi fa ridere che c'è questa... È la cosa del paziente zero, affetto da molti personalità, è chiaro. Però, mi fa piacere, mi fa piacere, se posso, che è venuto da solo senza dire... L'abbiamo a fare spaventare adesso. Sì. Che ragione te, e sapatapata Perché questa sorta qua è presente un sede bellissima no? Perché si sentirebbe sempre questa cosa che è Un sussieme che lo abbora la canzone e si catta così Di moschi con lui dai forse Ellissima Zapatà Ellissima Ellissima Io non ho pietà fu rimanere lì per sempre è caduto non ciò dico Ma non prendo nulla e quale è, no? Perché sennò non prendo. Se non ti vuoi fare un canzone bellissimo, l'ho scritto molti anni fa. Patat patat. Togo, togo, togo. Patat patat. Escrivi chiaro per non far rumore, ti adorgetti sera, ti svegli col sole. Si chiara come un'arma, si fresca come l'aria e... Diventi rossa se qualcuno ti guarda, sei fantastico quando sei a sola. Ma che è un canzone, no? I tuoi pensieri, dei tuoi problemi, ti vesti sbogliatamente, rompendo niente. Che possa tirare attenzione, attenzione, in un particolare. Solo per farti scopare. E' un bimbo a casa, un bimbo a scuola. E mi piaccio estriare. Non te ne devi vergognare. E quando guardi con quegli occhi, canti, 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 forse è un po' troppo sinceri, sinceri. si vede quello che pensi e quello che sogni e qualche volta fai passieri strani con una mano, una mano ti sfiori tu scusa dentro la stanza e tutto il mondo fuori e va che vola me aves pieni strani tu ti guicciolo per un piso e un piso tu scusa dentro la stanza e tutto il mondo fuori eh 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 a domani aspetta, aspetta, aspetta un secondo, benvenuto perché aspetta, mi sembro è colpa da freddo è colpa da freddo siccome sei signore signor Macaco che non è Macaco, è Maco allora, se ti vuoi dire qualcosa, mi è piaciuta molto con la baseretta da no, siccome mi è piaciuta molto con la baseretta da io volevo che chiudesse lui con la baseretta ho parlato alla persona più chiara del mondo c'era uno che si chiamava Caciolla allora, un bello giorno un bello giorno sentivo a municipio all'ufficio cambia cognomi bussau, permesso, salve chissà, scusate, questo è quello figlio cambia cognomi chissà, che dovete fare chissà, mi cambierò cognomi in chi, in questo modo lui, in chi chissà, ragazzi, farò da firmare che, chissà, che firmare che c'ho la c'è, ma che la fina non la vede saluti lei saluti lei grazie a tutti grazie Marco e complimenti grazie, grazie ciao 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 fuori fuori a domanda ciao ciao una vita in vacanza una vecchia che balla niente nuovo che avanza ma tutta la banda che suona e che canta per un mondo diverso libertà e tempo perso e nessuno che rompe i coglioni nessuno che dice c'è se sbaglia c'è fuori c'è fuori c'è fuori c'è fuori c'è fuori